Viventano 10 le zone rosse in Sicilia. Da oggi si aggiungono infatti Gela in provincia di Caltanissetta e Villa Rosa nell'Ennese. Il provvedimento in vigore fino al 31 gennaio è stato adottato dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza sulla base delle relazioni dell'ASPE competenti e sentiti sindaci delle amministrazioni coinvolte. La diffusione del coronavirus nei due comuni rende necessarie nuove misure ai fini della tutela della salute pubblica. Le nuove zone rosse si aggiungono a quelle attualmente in vigore in altri otto comuni della Sicilia. In provincia di Caltanissetta i divieti sono scattati a Milena. Nel Messinese, oltre al capoluogo, le misure restrittive coinvolgono Capizzi e San Fratello. In provincia di Catania sono stati dichiarati zona rossa Ramacca e Castel di Iudica. Stessi divieti a Santa Flavia, nel Palermitano, e a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Registrata anche un'impennata di casi positivi a Milazzo, dopo due giorni nei quali il dato si era sostanzialmente mantenuto in equilibrio tra nuovi casi e guariti. Il dato comunicato al sindaco dall'ASPE, infatti, è di ben 39 positivi, che portano il totale complessivo a 235. Se a ciò si tolgono quattro guariti, il totale 231, un dato che conferma le preoccupazioni dello stesso primo cittadino, che dopo aver disposto la chiusura delle piazze e del centro, quale aggravamento delle disposizioni nazionali e regionali, che hanno assegnato alla Sicilia la zona arancione, oggi ha sospeso il mercato settimanale, e chiestò al prefetto di convocare una riunione del Comitato dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, per affrontare la questione dei controlli e cercare di attuare la maggiore prevenzione possibile ad un virus che sembra essere davvero fuori controllo anche nella città del Capo. In un solo giorno, infatti, si è registrato un aumento di casi pari al 20% del totale. Nei laboratori privati i tamponi proliferano e domani, al fine di assicurare un'attività di sicurezza sia all'interno del Comune, sia nei confronti dell'utenza, a Palazzo dell'Aquila è previsto uno screening per tutti i dipendenti comunali e per gli stessi amministratori. Il sindaco Pippo Midili ha anche concordato con l'azienda sanitaria provinciale uno screening massivo riservato a gran parte dei residenti.